E' un turismo per così dire a due velocità quello che sta riguardando la nostra regione, con il pienone nelle località costiere e numeri meno positivi per quel che concerne le aree interne, come spiega ai nostri microfoni Gianni Tauci della Confesser Centi. Sulla costa va tutto a gonfiavele, gli hotel sono pieni, le strutture extra ricettive sono piene, le attività comunque sia commerciali che quelle proprio della ristorazione stanno lavorando benissimo. Sicuramente si nota invece un ritorno al pre-covid nelle zone interne. Questa cosa ci fa preoccupare perché significa che tutto quel momento di positività nelle zone interne non siamo riusciti poi a mantenerlo, quindi azioni regionali per mantenere il turismo interno non ce ne sono state e purtroppo si è visto. Il mare torna a essere invece gettonatissimo? Assolutamente sì, tutti gli hotel sono pieni, quindi vediamo una presenza elevata, che poi fa il paio col fatto che la gente che va in giro si nota anche la sera, nelle attività, nei concerti, negli eventi che ci sono. Quindi sicuramente una stagione soddisfacente per tutta la fascia marittima, quella della costa. Ma non è finita perché in una stagione estiva che si allunga anche per via dei cambiamenti climatici si prevedono molte presenze in Abruzzo fino a dopo la metà di settembre. Ma noi sappiamo che rimarrà il pieno anche per le prime settimane di settembre, quindi un qualcosa che oramai si sta consolidando nel tempo, cioè quello che è la stagione estiva non è più luglio-agosto ma sta ricominciando a essere giugno-settembre. Questi numeri i tauci possono compensare almeno parzialmente i due anni di Covid oppure resta ancora la ferita aperta di due anni di attività praticamente chiuse? Purtroppo la ferita è aperta perché economicamente le famiglie spendono di meno, quindi quello che prima si spendeva quando si stava in vacanza, oggi si sente che il portafoglio dell'italiano è comunque sofferente. C'è una presenza di stranieri che comunque hanno più possibilità economiche nello spendere, però sicuramente dobbiamo attendere ancora, speriamo ancora poco, però non è sicuramente questa la stagione del pareggio.